Corso presentoso, una storia infinita. Ruspa in azione, in via Luigi De Crecchio a Lanciano, le mattonelle, che ricordano il prezioso disegno del gioiello tradizionale abruzzese, sono state smantellate e al loro posto riappare una lingua d'asfalto. Automobilisti e passanti stupiti, per anni siamo stati abituati a vedere sostituire le mattonelle in grasse rotte, ma nessuno ne avrebbe immaginato la rimozione completa sugli attraversamenti carrabili. È una questione di sicurezza, dice al Tg Max l'assessore ai lavori pubblici e mobilità Paolo Bomba, che dopo mesi e mesi di attesa vana di una proposta transattiva da parte della ditta molisana, realizzatrice dell'opera, ha deciso di passare all'azione. Diversi passanti sarebbero stati colpiti in passato da schegge di mattonelle rotte in via De Crecchio, la strada più trafficata in centro, anche da mezzi pesanti. Per ora, precisa l'assessore al Tg Max, via Dalmazia non subirà lo stesso intervento e neppure Viale delle Rose, l'ultimo tratto riaperto al traffico dopo la posa della nuova pavimentazione, ma già traballante come diverse zone dell'area pedonale. L'opera, voluta dall'amministrazione Pupillo, costò complessivamente 1.361.000 euro. La nuova amministrazione Paolini ha sempre detto di voler evitare i contenziosi e cause infinite nei tribunali, ma ad oggi all'orizzonte non sembra esserci alternativa. Nel frattempo, la Corte dei Conti indaga, dopo alcuni esposti sull'opera nel 2020, i giudici amministrativi hanno acquisito atti a più riprese negli uffici comunali. Si cerca di ricostruire la catena delle eventuali responsabilità, dal progettista del corso presentoso al direttore dei lavori e fino alla detta esecutrice dell'opera. Bella, sì, ma fragile.